Mario Liverio, candidato del centro-sinistra alla Presidenza della Regione, ha presentato alla stampa, presso la sede del Comitato dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, la sua proposta, declinata in cinque punti, per il rilancio del porto e dell'area di Gioia Tauro. Al tavolo della Presidenza, con Liverio, anche il professor Francesco Russo dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il sottosegretario Umberto De Caro, componente della cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Onorevole Marco Minniti. La proposta che è stata presentata oggi, articolata, è una proposta che muove su cinque punti. In primo luogo la costituzione della ZES, la zona economica speciale, per creare condizioni di attrattività per le imprese, per gli investitori, perché senza uno strumento come la ZES difficilmente si potranno creare condizioni di competitività nel bacino del Mediterraneo con la portualità a sud del Mediterraneo. Si tratta di creare le condizioni perché nell'aumento del volume di traffici che sempre di più il Mediterraneo registra, Gioia Tauro possa essere in grado di intercettare una quota consistente. Gioia Tauro è l'infrastruttura portuale più importante nel Mediterraneo per quanto riguarda il nostro paese. Io credo che su questo bisogna puntare e bisogna insistere. Il secondo obiettivo sul quale abbiamo lavorato è quello del gateway, cioè quello dei collegamenti tra l'infrastruttura portuale e i traffici terrestri, a partire dall'adeguamento dei collegamenti ferroviari. Qui si tratta di compiere una correzione profonda perché queste strozzature possono essere superate e soprattutto perché le ferrovi dello Stato assumano una iniziativa concreta per dare risposte e per farsi avanti anche rispetto alle gare che stanno andando deserti per la realizzazione dei collegamenti. Bisogna consolidare la funzione di hub tra shipment perché il volume di Teo deve essere difeso e deve essere anzi ampliato perché altri porti come Tangeri in questi anni hanno realizzato una grande espansione, hanno realizzato obiettivi importanti. Io credo che Gioia Tauro debba essere messo nelle condizioni di competere, quindi da questo punto di vista bisogna sostenere queste attività. Il terzo obiettivo è quello di realizzare la rete intorno a Gioia Tauro. Crotone, Corigliano, Mila San Giovanni devono costituire strutture che in modo sinergico devono essere poste in una condizione di espressione delle potenzialità che sono enormi, anche qui attraverso una spinta verso la specializzazione di queste infrastrutture portuali. Quinto punto, un investimento sulla ricerca e la formazione che è un obiettivo di notevole importanza per proiettare questa nostra regione, quest'area, verso le nuove frontiere dello sviluppo che saranno nei prossimi anni sempre più a sud del Mediterraneo. Avere attenzione a queste problematiche significa porre la nostra regione come una risorsa per il Paese. Credo che su questo noi apriremo il confronto con il Governo nazionale. Abbiamo avuto la disponibilità di Renzi ad aprire un confronto concreto e questo è un progetto che presenteremo al tavolo del confronto che si riaprirà col Governo.